benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video di nail art allora io qua non ho messo nessun colore ho messo solo questo qui che ho usato dell'andenda per fare l'effetto opaco per andare a disegnare e perché la devo fare proprio tutta piena l'anel art insomma quindi non si vedrà per niente il colore sotto con inutile che lo metto quindi non lo mettere nessun colore e andremo a realizzare una bocca di donna che fuma una sigaretta insomma si vede un po di capelli la bocca soprattutto con la sigaretta sperando che mi riesce bene e vi faccio vedere i colori che andrò utilizzare allora prima di tutto andrò a utilizzare con la matita così dopo quei colori posso eseguire benissimo a mettere il colore e vado a riprendere insomma le linee guida che ho fatto con la matita allora andiamo a prendere antigua che il caribe p04 di passione unghie i colori dopo mano mano ve li faccio vedere dopo nel video quando li apro poi andiamo a prendere tropicana no tropicana scusate mi sono sbagliata non è tropicana perché ho preso tropicana volevo dire nocciola dove che non lo trovo ecco qua scusate mi sono sbagliata è uscito fuori tropicana quindi tropicana scordatevelo nocciola classic c49 poi andiamo a utilizzare poison black fast f16 e il pure white del fast f01 questi sono i colori che andremo ad utilizzare oggi niente io vi lascio metto un attimo bene il telefono ok niente io vi lascio al video e ci vediamo dopo a fine video ciao 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 non ve l'ho fatto vedere che mi ero sbagliata con il tropicana volevo dire il trinidad che è questo qui P05 che è questo rosa per fare la bocca praticamente eccolo qua e in più come avete visto mi sono fatta vieta del passione unghia anche per non scomporcare più di tanto il tappetino asciugamanino rosso insomma sotto e niente ricominciamo con la nail art scusatemi per questo piccolo sbaglio e in più 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.